Siamo nei pressi dell'Ariana e vediamo un tramonto meraviglioso. Questo è il Circeo, il monte Circello, come lo chiamavano i Greci. Ecco, sembra la maga Circe adagiata su un mare che dorme, ma questo è il Circeo, vedete che bello, multiforme. E là in fondo si vede Terracina, questo è il monte a mare e poi in fondo Terracina. E' più a sud, diciamo, vediamo Ventotene, Ponza, questa qui è Ponza, vedete? Eccola qua, Ponza e Palmarola. Questa è Torre Viola davanti a noi, una delle torri che durante il Ducato di Gaeta i Gaetani costruivano per vedere in lontananza se c'erano pirati saracini, saracini che sono stati sconfitti sul Garigliano nel 915 quando la Lega Campana fatta da Gaeta, Napoli, Amalfi e Benevento li massacrò.